Il Presidente del Consiglio Comunale di Roma, De Vito, è stato arrestato perché avrebbe favorito l'approvazione del progetto dello Stadio da Roma. Noi problemi quindi per pallotta per la costruzione dello stadio? Ne parliamo in questo video. Allora, abbiamo detto che De Vito è stato arrestato, però in Italia abbiamo questa grande passione di condannare le persone prima del processo vero e proprio. Abbiamo già deciso che De Vito è colpevole. Non solo, in questo caso abbiamo fatto un step ulteriore. Abbiamo già deciso che non solo è colpevole lui e Parnassi, ma anche il progetto della Roma è violato dalla corruzione e quindi non potrà essere approvato. No, non è così. De Vito è stato arrestato perché può compromettere le prove, ma ancora non è stato giudicato, è solo stato accusato e quindi, fino a prove contraria, è ancora innocente. Quindi, attenzione, non vuol dire che è stato giudicato. Ci sono delle prove compromettenti che accusano De Vito di aver fatto approvare il progetto dello Stadio della Roma dopo aver ricevuto tanti soldi. Lui che ha fatto la sua campagna elettorale dicendo che il 5 Stelle sarà contro la corruzione nel comune di Roma e poi sembra proprio lui l'artefice di questo grandissimo scandalo. Ripeto, bisogna ancora vedere come finirà il processo. È stato accusato di aver accettato tangenti per approvare il progetto della Roma. Non è stato ancora giudicato. Quindi, attenzione, siamo ancora all'inizio della procedura. Stessa cosa con Parnassi e tutti gli altri coinvolti in questo progetto Stadio della Roma. Virginia Raggi ha già scritto dicendo che non tolverà nessuno e che se c'è stato un illecito verranno puniti severamente. Adesso, il grande problema qual è? Il progetto sarebbe stato approvato. Il comune deve ancora approvare le variazioni al progetto che sono state approvate per far partire il progetto. Ovvio che in una situazione del genere ci sono delle domande importanti. Il progetto può andare avanti? Beh, sembra. Il direttore generale del Campidoglio, Giampoletti, ha detto che il progetto andrà avanti se non è stato viziato penalmente. Quindi, bisogna vedere se questi tangenti, questi aiuti che Parnassi ha avuto per avere l'autorizzazione hanno effettivamente aiutato la Roma ad ottenere questo progetto e se il procedimento quindi non è stato viziato. Il problema principale è come fa Virginia Raggi e il comune di Roma a provare, dare la luce verde a un progetto che sembra viziato da comportamenti illegali, tangenti per approvare il bilancio, per approvare il progetto, eccetera. Sembra molto difficile e senza questa approvazione del comune il progetto non va avanti. I lavori per lo stadio di Roma rischiano di non partire mai. Ha sbagliato Pallotta? A mio avviso l'errore di Pallotta è stato affidarsi a certe persone che si sono confermate essere non le persone giuste. Queste tangenti, ripeto, vanno ancora confermate. Noi siamo già andando avanti e già abbiamo deciso che i colpevoli sono, veramente colpevoli, sono stati giudicati. Per cui calma, vediamo come evolverà la situazione. Certo che ci sono tante accuse a differenti persone coinvolte in questo progetto che fanno credere che qualcosa di losco ci sia stato. Un peccato perché Roma ha bisogno di stadi di proprietà. La Roma e la Lazio hanno bisogno di stadi di proprietà per poter competere con le grandi squadre europee. Invece siamo fermi da tutti e due punti di vista. La Roma con questi procedimenti che hanno bloccato lo stadio e la Lazio abbiamo visto con la lite virginia raggirotito. Voi che ne dite? Come finirà questa situazione? Scrivetemelo nei commenti. E se vi piacciono questi video cliccate il bottone like e se non siete ancora iscritti cliccate il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverete una notifica ogni volta che farò un nuovo video. Ciao, alla prossima!